Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo tornati su Epic Makey 1 Dopo un miliardo di anni insieme Epic Summer Saluta Ciao a tutti ragazzi Ciao Fonji Cosa facciamo? Dica tutto Dobbiamo andare a fa' culo Dobbiamo andare allo stavo Andiamo Noi adesso come sti giorni ti stai obbriacando Di chi? No 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 Io so cosa devo fare Devo Ma già Perché scusa? Perché scusa? Un'altra cazzin c'è Che senso un'altra cazzin? Ci sono altre tre scene se fai cadere quella merda Andiamo avanti Vabbè C'è Dobbiamo finire il gioco o no? E' lo schifo Devi partire da là Dalla strada roma E devi atterrare al lato destro Vai 3, 2, 1 vai 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 Ok Devi continuare a saltare in quell'angolo Devi saltare in quell'angolo Sì però L'altra sopra l'ingranaggio Bravo Non è semplice Allora poi no Più parò Zumba 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 Sto zumbando Volando Dove andare No devi continuare a far salti corti Vedi che poi hai triche Devi andare Verso sinistra un pochettino E sai continuare a saltare Eh Eh Sì Oh Va cacciadoia Vedi Sanzi Devi dare sempre ascolto a me Sì Oh So volato giù dalla sede a zoppara Mi so sporgito troppo Ah Ma tu sono Caini Ah It's a me Super Luigi And it's not smart Ah Eh No It's a me Super Luigi Dov'è Mario sulla PS4? Diventi quello di Mario per favore, diventi quello di Mario Hello, it's a me, Super Mario on the PS4 WAHOO Eh, vado, ma si scherza LEEEEE EEEEEE Mister... Mister Mario Cianza, mi dice la passo con dentro il canale Eh? GIUPPAA Sì, si do la faccio in dentro il canale NOOOOO, è attacco Ciuppa LEEEEE C'è una parettro player Eh, wow Dov'è Mario quella concept art Vai via, via E' fatto su noi oggi No, ma qua si deve fare E' fatto Guarda qua, la speedrun, la speedrun proprio Senza colorare niente Ah Finalmente Dove sta Osvaldo? Dove mi ha fatto tre cose? Sì Dai Osvaldo, daje Osvaldo Sì Oh Oh Sì 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 Ah 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 Allora Perfetto Allora Andiamo da Main Street E direi che il video di oggi Può terminare qua Di già? Sì Non vogliamo andare ancora avanti Quanti minuti siamo di registrazione? Siamo a 24 minuti Porca troia Vabbè andiamo avanti Vabbè Facciamo un altro pochettino Un altro proiettore Aspettate Non mi scassate Sì È stato attivato Finalmente Tomorrow si Ok Ok Questa zona Io non ho capito a cosa serve Cioè Tu hai capito a cosa? Cosa serve questa zona? Boh Te lo sai? Non so Cioè io non capisco Cioè io non capisco a cosa serve Oh Ah ecco a cosa serviva Oh No lo so No lo so No lo so E' la lasciamo stare Per alimentare il sottomarino Per arrivare dall'altra parte Di Space Voyage Il robot Dello fare direttamente Un proiettore Per spesso Voyage Vabbè ragazzi Io direi Che il video Può terminare qua Perché siamo già A mezz'ora di registrazione Ci siamo veramente A mezz'ora di registrazione Quasi 40 anni Che l'ho fatto Direi che il video Può terminare qua E' la 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 la